Poesia che supera i confini geografici e concettuali, d'altronde la Casa della Poesia non avrà mai porte per dirla con Alda Merini e finisce anche in rete su Facebook dove si gioca la sfida Suon Diversi. Tutto con La Punta della Lingua, il Festival della Poesia, giunto all'undicesima edizione in programma ad Ancona dal 19 al 26 giugno. Diversi gli ospiti internazionali, soprattutto voci italiane, in uno scambio continuo tra versi, musica, arti in arrivo da mezzi differenti. Un nome, quello di Guido Catalano, poeta e performer, ormai ospite fisso della trasmissione Caterpillar di Radio 2. Si parte però con un'anteprima culinaria, comunque con il poeta, il prossimo 3 giugno al Circolo Off di Ancona. Poi l'impegno sociale con la poesia che può mettere in galera in Arabia Saudita, quella di Ashraf Fayyad. La poesia può far finire in galera e questo poeta è stato sostenuto da Amnesty International, che ne ha sostenuto il divieto di condanna a morte, perché addirittura era stato condannato a morte. E tramite una collaborazione con il Festival Internazionale di Berlino e la stessa Amnesty faremo una lettura in suo onore. L'edizione 2016 sperimenta anche nuove location, tra cui la Lanterna Rossa al porto di Ancona. Uno dei reading più affascinanti con la grande poeta siciliana Yolanda Insana e una scoperta un po' della punta della lingua, nonostante sia un poeta già di età avanzata, il greco Sotirios Pastakas, uno dei cinque ospiti internazionali dell'edizione di quest'anno. L'organizzazione ha anche lanciato una campagna di crowdfunding per far crescere ancora la rassegna organizzata da Nieviem. Come noi ci mettiamo nel nostro, chiediamo anche un piccolo contributo a chiunque se lo possa permettere attraverso una campagna di raccolta fondi sul sito Produzioni dal Basso.